Ingredienti Dosi per 4 persone 2 carote 2 patate 2 rape 2 porri 1 mazzetto di ciporino 2 cespi di belga 1 cespo di trevisana 5 litri di brodo Burro, olio e parmigiano Preparazione Rosolare in burro e olio caroter Patate Rape e porri Unire il cicorino La belga e la trevisana tagliati a listarelle Far stufare il tutto Bagnare con il brodo e far cuocere per 45 minuti Unire una noce di burro e abbondante parmigiano Il piatto è pronto Buon appetito!